Buonasera, benvenuti e ben ritrovati a questa edizione di 100 notizie e brindisi che apriamo parlando di cronaca giudiziaria, dovranno difendersi dall'accusa di corruzione, indagati ex sindaco, ex consiglieri, dirigenti comunali e professionisti, il servizio di apertura con i dettagli nel servizio ovviamente di Anna Saponaro. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e falsità ideologica e materiale commesse in atti pubblici. Indagate a brindisi 9 persone fra amministratori, dirigenti e funzionari e liberi professionisti. Si tratta dell'ex sindaco Mimmo Consales, dell'ex assessore all'urbanistica Pasquale Luperti, dell'architetto Fabio Lacinio, allora dirigente del settore urbanistica, dell'ex vice segretario generale del comune Costantino del Citerna, ancora degli ex consiglieri comunali Salvatore Brigante Luigi Sergi, del giometra Marina Mautarelli, tecnico del settore urbanistica e degli architetti Luigi Dellatti e Gregorio Paladini. L'attività investigativa è stata condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi. Dovranno difendersi dall'accusa di corruzione del Citerna, Sergi, Consales e Brigante. In cambio del suo sostegno su proposte della maggioranza, gli ultimi due avrebbero garantito al consigliere Sergi l'assessorato al patrimonio e casa per il figlio. Inoltre Consales avrebbe promesso sempre a Sergi un posto per suo figlio nel Consiglio di Amministrazione della Società Trasporti Pubblici. Sempre l'ex sindaco, questa volta insieme a Dell Citerna, avrebbe nominato il figlio di Sergi quale componente dell'ufficio di supporto del sindaco. L'architetto Lacinio invece avrebbe ricevuto denaro da Paladini per un lascia passare su una pratica relativa ad un impianto di distribuzione di gas metano. Anche in questo caso l'ipotesi di reato è quella di corruzione. Infine, senza il necessario incarico, sarebbe stato redatto da professionisti esterni al Comune il progetto di restauro di Torre Testa, Torre Punta Penne, questione che avrebbe visto coinvolti Luperti, Mautarelli, Lacinio e Dell'Atti. Ci spostiamo in provincia. Dal prossimo mese di aprile entrerà in funzione il primo impianto di compostaggio nel Salento e sarà realizzato a Erchie. Ad Erchie l'impianto di compostaggio si farà. Il Tar di Lecce, infatti, ha dato il via libera all'entrata in funzione del primo impianto del Salento. Con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, la seconda sezione del Tribunale amministrativo ha respinto, infatti, il ricorso proposto dal Comune di Erchie e dalla provincia di Brindisi avverso l'autorizzazione concessa dalla Regione Puglia all'entrata in esercizio dell'impianto realizzato dalla Società Eracle di Venezia, difesa dall'Avvocato Quinto. Il Comune aveva contestato alla ditta di aver variato il progetto rispetto alla sua impostazione originale. A sostenere le tesi del Comune è intervenuta in giudizio anche la provincia. I giudici amministrativi hanno invece condiviso le tesi difensive dell'Avvocato Quinto che ha dimostrato l'erroneità della qualificazione da parte del Comune della modifica come sostanziale. L'amministrazione è stata quindi condannata a pagare le spese legali per oltre 10.000 euro divise fra Società e Regione Puglia. E la via libera del Tar consentirà l'entrata in esercizio dell'impianto entro la prossima stagione estiva con una forza lavoro di circa 100 unità fra operai comuni e operai specializzati per poi ridursi a 20 per la fase di gestione a regime. L'impianto è autorizzato a trattare 80.000 tonnellate all'anno di rifiuto organico. Cambiamo argomento e parliamo di sanità. Il direttore generale dell'ASL di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, spieghi perché non è stato prorogato il contratto degli operatori sociosanitari in provincia di Brindisi. Così il consigliere regionale Mauro Vizzino. Spetta al direttore generale dell'ASL di Brindisi spiegare perché non ha prorogato il contratto ai 141 OS precari, ne è convinto il consigliere regionale di maggioranza Mauro Vizzino che in una nota scrive L'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha fornito assicurazioni in riferimento alla convocazione anche del direttore generale dell'ASL di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, prevista per oggi. Lo stato di grave emergenza sanitaria determinato dal Covid-19 infatti genera non poche preoccupazioni, soprattutto a causa del superamento della soglia del 30% di occupazione dei posti di terapia intensiva e del sovraffollamento degli altri reparti dedicati alla cura del Covid-19. Rilevante è l'impegno da approfondere anche nei reparti e negli ambulatori dedicati alla cura delle altre patologie, aggiunge ancora Vizzino, che proprio a causa del Covid segnano gravi ritardi. Su questo incide inevitabilmente la carenza di personale, e ciò rende ancora più inspiegabile la mancata proroga del contratto ai 141 OS precari che hanno lavorato fino al 31 gennaio nelle strutture sanitarie pubbliche della provincia di Brindisi. Ecco perché, conclude il consigliere regionale, occorrono risposte convincenti da parte del massimo esponente dell'azienda sanitaria. Restiamo in argomento perché c'è l'intervento anche di Maurizio Bruno, consigliere regionale, che parla anche dei dati preoccupanti in merito al Covid nella provincia di Brindisi. La situazione Covid di Brindisi preoccupa e non poco. Diversi primari e medici in questi giorni hanno manifestato la preoccupazione che alcuni loro reparti possano chiudere per il continuo arrivo di nuovi contagi. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Bruno, che spiega. I dati ufficiali vedono proprio la Puglia come una delle cinque regioni Italia dove la soglia di guardia del 30% per posti di terapia intensiva occupati è stata superata. Siamo secondi solo all'Umbria. Per questi motivi l'assessore regionale alla Sanitapia Luigi Lopalco, durante l'audizione che abbiamo ottenuto nel pomeriggio con il gruppo PD, ha comunicato l'intenzione di convocare il direttore dell'Asl di Brindisi, Pasqualone, per chiedere delucidazioni in merito. Su mia sollecitazione dei consiglieri Caracciolo e Capone, Lopalco ha inoltre confermato l'intenzione di domandare al direttore dell'Asl le ragioni che lo hanno spinto a non prorogare ai 141 operatori sociosanitari, nemmeno una parte di loro, il contratto scaduto il 31 gennaio, nonostante sia stato reso possibile dalla legge. Infine, conclude Bruno, l'assessore alla Sanità si è detto favorevole alla mia richiesta di rendere disponibili H24, i reparti di diagnostica, TAC e risonianza magnetica, nei nostri ospedali, per via delle difficoltà che tanti malati, soprattutto oncologici, stanno lamentando ormai da tanto tempo. L'assessore Lopalco ha confermato la disponibilità di risorse per l'attuazione di questo progetto e valuterà nei prossimi giorni come e quando attuarlo sarebbe un contributo fondamentale per la salute di tanti pugliesi che non devono e non possono trascurare le proprie patologie a causa della pandemia. Cambiamo argomento, nave Roro ferma nel porto di Brindisi dopo l'ispezione della Capitaneria di Porto. sentiamo cosa hanno riscontrato gli uomini della Guardia Costiera. Nave Roro ferma nel porto di Brindisi dopo l'intervento della Guardia Costiera. Il personale della Capitaneria di Porto di Brindisi e Gallipoli durante un'ispezione prevista dal Memorandum of Understanding di Parigi ad una nave Roro Pax battente bandiera cipriota in linea nella tratta Brindisi-Valona ha rilevato diverse deficienze relative alla preparazione dell'equipaggio sulle procedure di sicurezza dell'abbandono della nave. L'unità è un traghetto di oltre 40 anni. Considerata l'importanza della sicurezza per la navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare di passeggeri ed equipaggio gli ispettori sotto il comando del Capitano di Vascello Fabrizio Coche hanno emesso un provvedimento di fermo nave a carico della Roro Pax che pertanto non potrà riprendere la navigazione prima che il nucleo PSC abbia verificato il ripristino dell'efficienza dei sistemi e non da ultimo la preparazione dell'equipaggio. Questa attività di ispezione si inserisce nel più ampio programma nazionale del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto per far sì che le navi che approdano nel Paese rispettino le norme di sicurezza e adottino tutti i possibili accorgimenti per la tutela dell'ecosistema marino e dell'ambiente in generale. Superato il primo step per il finanziamento per la realizzazione di percorsi ciclopedonali a Francavilla Fontana ce ne parla ancora Anna Saponolo Superato il primo step del finanziamento per la realizzazione di percorsi ciclopedonali a Francavilla Fontana il progetto presentato dall'amministrazione comunale che prevede un investimento di 853 mila euro mira la creazione di percorsi legati ai luoghi storici e si configura come la naturale prosecuzione del percorso europeo Eurovelo EV5 il percorso ciclopedonale che abbiamo candidato si inserisce in un progetto organico del Comune che dimostra ormai di aver puntato su un modello sempre più apprezzato fuori dai nostri confini cittadini grazie agli svariati finanziamenti che Regione e Governo centrale ci stanno concedendo dichiara l'assessore alla mobilità sostenibile Sergio Tatarano nello specifico si tratta di un epocale e inedito percorso che consentirà di raggiungere in bici i punti più attrattivi della città in linea con un'idea di mobilità lenta e sostenibile che è oggetto del Pums a cui stiamo lavorando con grande entusiasmo Eurovelo detta anche la via Romea Francigena è una pista ciclabile che una volta terminata avrà una lunghezza di 3.900 km e unirà Londra a Brindisi passando per Milano e Roma ricalcando in parte il percorso della celebre via Francigena l'inserimento del percorso ciclopedonale in questo contesto europeo consentirà di intercettare flussi turistici settoriali offrendo un'occasione per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della città degli imperiali evento eccezionale a Torre Guaceto dove è stato avvistato un giovane esemplare di squalo e elefante salvato dai pescatori e dagli operatori del consorzio di gestione di Torre Guaceto evento eccezionale a Torre Guaceto dove è stato avvistato un giovane esemplare di squalo e elefante salvato dai pescatori e dagli operatori del consorzio Cosimino e Vito De Biasi questi nomi dei pescatori hanno spiegato di aver appena salpato le reti posizionate all'esterno dell'area protetta e di essersi accorti di aver tirato su un grosso e strano pesce il personale del consorzio è giunto sul posto dopo aver allertato i ricercatori della stazione zoologica Anton Dorn da qui la scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta l'esemplare catturato era un piccolo di squalo e elefante lo squalo è stato sottoposto a manovre di ossigenazione e poi liberato si tratta presumibilmente di una femmina di pochi mesi di vita vista la lunghezza pari ad appena un metro e sessanta specie attualmente protetta un tempo catturata e usata per la produzione di olio di fegato lo squalo e elefante il secondo pesce più grande al mondo arrivando a superare anche gli ottrometri di lunghezza è un animale inoffensivo per l'uomo perché si nutre di plankton come sottolineato dai ricercatori l'episodio è particolarmente eccezionale perché la cattura di esemplari giovani come la piccola salvata dal consorzio è molto rara siamo molto emozionati per la grande sorpresa e l'enorme soddisfazione poi che ci ha donato questo episodio ha dichiarato il presidente del consorzio di gestione Corrado Tarantino oggi si è compiuto un piccolo miracolo abbiamo salvato la vita di un piccolo protetto siamo allo sport al calcio iniziamo dalla Serie C con il servizio realizzato sulla Virtus Franca Villa da Alessandro Zanzico continua a vincere la Virtus Franca Villa torna a farlo anche in trasferta dopo lo stop del San Nicola Trocini conferma dieci undicesimi della squadra che ha sconfitto sabato scorso la Turris facendo solo a meno dello squalificato Pambianchi al suo posto Luca Sparandeo il primo squillo di giornata è a cura dei padroni di casa che dopo otto minuti ci provano con Tumbarello il numero 14 sterza sul destro calcia ma trova la respinta di Costa pericolosissima la Virtus all'undicesimo con Giovannino Ceciua che dal limite dell'aria calcia al volo con il destro sfiorando l'Euro goal gli ospiti si portano in vantaggio al quindicesimo traversone dalla destra di Franco che pesca Castorani questi trova una meravigliosa torsione in tuffo e in sacca di testa il gol dell'1-0 sesta marcatura stagionale per il centrocampista classe 99 adesso capocannoniere dell'Imperiali ancora Virtus pericolosa al ventiduesimo dalla bandierina il sinistro di Ciccone trova ancora Castorani che lasciato completamente da solo calcia al volo con il destro trovando però la deviazione di Bachini 5 minuti più tardi tentativo insidioso di Laribi direttamente dalla bandierina ma il tiro cross del numero 20 viene prontamente smanacciato sopra la traversa al minuto 42 Ciotti mette in mezzo per Parisi che calcia ma la debole conclusione è facile preda dell'estremo difensore imperiale il Francavilla trova il gol del raddoppio al sesto della ripresa dagli sviluppi di un calcio d'angolo Di Cosmo salta più in alto di tutti e trova l'assist per Sparandeo per il difensore Campano è fin troppo semplice trovare da due passi il colpo di testa che vale il 2-0 Contropiede Virtustino al 66esimo con Castorani che crossa e trova Vasquez l'argentino ci prova con un'acrobazia che però non spaventa Marzon sul capovolgimento di fronte serpentina inarrestabile di Marco Spina per fermare il numero 7 c'è bisogno di un tecle in scivolata al 69esimo Parigi ci prova con un colpo di testa ma Costa si tuffa e blocca con facilità il pallone al 73esimo si rende ancora pericoloso Berardi serie di finte del numero 10 che salta Nunzella mette in mezzo ma non trova alcun compagno a raccogliere l'assist pochi secondi dopo ci riprova Berardi che supera due difensori ma incrocia con poca convinzione e Costa può bloccare la sfera stendendosi alla sua sinistra al minuto 84 gli ospiti si riaffacciano dalle parti di Marzon ma la conclusione di Maiorino termina al lato accorciano le distanze i padroni di casa al 90esimo sullo sviluppo di un calcio d'angolo mette a segno di testa Domenico Laragione lasciato completamente da solo nel cuore dell'area di rigore seconda vittoria consecutiva per la Virtus Franca Villa che conferma il periodo di splendida forma e continua a scalare meritatamente la classifica i biancazzurri tornano in Puglia con i tre punti ma ci sarà ben poco tempo da dedicare i festeggiamenti perché domenica al Giovanni Paolo II arriva la Juve Stabia Siamo alla serie D pareggio interno per il brindisi con la Puteolana succede tutto nel secondo tempo le reti di Faccini e della Monica il servizio Un brindisi rinfrancato dalle novità societarie giunte in settimana e dalla buona prova in trasferta con il Picerno ospita il fanalino di coda Puteolana per ritrovare il successo che manca da diversi turni gli ospiti arrivano al Fanuzzi per muovere la classifica e salvare la panchina di mister Grimaldi che scolificato si accomoda e ingradinata i campani vantano una rosa di tutto rispetto essendo una delle regine del mercato di riparazione avendo investito sul calciatore di primo piano De Luca cambia otto undicesimi e lancia Monteleone Faccini e Buglia dal primo minuto gli ospiti schierano Romano delle curti della Monica Cavaliere Nicolopulos Riccio Inbimbo Fontanarosa Palumbo Ruggero e Festa il primo tempo si gioca su ritmi blandi e con poche emozioni al quarto d'ora il primo tentativo è di Fontanarosa per gli ospiti In chiusura di frazione ancora i campani con Ruggero che vince un rimpallo ma frana addosso a Pizzolato La ripresa è più viva i padroni di casa passano al ventunesimo Palumbo entrato nella ripresa innesca bocca d'amo palla in mezzo e tiro di Faccini 1-0 per il Brindisi La reazione campana arriva al trentaduesimo tiro di Ruggero e Pizzolato mette in angolo Un minuto dopo episodio decisivo Faccini a terra Ruggero e per l'arbitro è rosso diretto sanzione eccessiva per l'attaccante Brindisino Il pareggio della Puteolana arriva al quarantesimo su angolo dubbio per gli ospiti il collaboratore di linea aveva indicato infatti la rimessa dal fondo la battuta in area trova la deviazione decisiva di Della Monica e poi quella di Bocca D'Amo che beffa il portiere Biancazzurro La reazione dei ragazzi di De Luca è tutta in questa rovesciata di D'Angelo al quarantatresimo Ultimo episodio al quarantasettesimo Cavaliere ci prova da fuori Finisce così uno a uno un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai Biancazzurri E nel post partita abbiamo intervistato l'enato del Brindisi mister Claudio De Luca che ovviamente non era soddisfatto per il punto sfumato ovviamente per la vittoria sfumata nel finale per il punto conquistato dei suoi Mister sicuramente è meglio nella ripresa rispetto ai primi 45 minuti poi è inutile negarlo l'espulsione di Faccini ha cambiato sicuramente le sorti del match e poi è arrivato quel gol sfortunato Sì il primo tempo è stato un primo tempo combattuto dove entrambe le squadre diciamo si sono studiate la putolana ci aspettava un po' più basse poi usciva e quindi non era alcune volte semplice tra primo e secondo tempo ho variato qualcosa ho chiesto ai ragazzi di costruire in modo appena appena diverso visto che gli avversari ci aspettavano un po' più bassi l'avevamo anche preparato però anche in base alle caratteristiche poi di chi è subentrato aveva più senso variare qualcosa infatti poi abbiamo fatto gol proprio su quel movimento e quella situazione che avevamo detto tra primo e secondo tempo e che proviamo anche in allenamento ci dispiace ci dispiace perché secondo me l'ho detto anche ai vostri colleghi io non ho mai parlato dall'inizio del campionato ad oggi di arbitraggi perché ho grande rispetto e non ho mai messo bocca sul discorso degli arbitri però diciamo oggi ci sono più di un episodio importante che hanno poi condizionato il risultato finale perché non c'è l'espulsione di Faccini al massimo c'è una munizione la palla comunque era lontana una ripartenza la palla stava anche avanti quindi eventualmente l'arbitro poteva lasciar correre poi ammonire il ragazzo che ha incrociato la corsa o anche se volontariamente ha fermato l'avversario è un fallo d'ammunizione non ha mica dato un pugno non l'ha mica ammazzato quindi per me quella è una semplice ammunizione e peraltro poi avremmo avuto la possibilità anche di effettuare una sostituzione lì davanti e si stava per entrare Zanchi proprio al posto di Faccini ecco perché un po' ci siamo ci siamo arrabbiati quindi avremmo poi avremmo anche potuto prendere il gol in 11 contro 11 ci mancherebbe però i ragazzi dicono che non c'era neanche il calcio d'angolo al massimo c'era un piccolo fallo su quell'azione perché Botta ha toccato più il piede del ragazzo che ha crossato che non la palla però poi l'errore naturalmente la disattenzione è nostra perché non è che l'arbitro fa il gol o noi ci facciamo l'autogol siamo stati noi poco attenti perché fino ad oggi diciamo soprattutto nell'ultimo periodo siamo stati attenti alle marcature a tutte le palline attive questa volta abbiamo concesso questa situazione e la Puteolano è una squadra fisica con giocatori esperti quindi ha trovato il gol su questa mischia sul calcio d'angolo dove addirittura si sono trovati due o tre giocatori loro quasi soli e questo è strano per tutto quello che facciamo noi quindi bisogna essere attenti certo quando si fa un gol siamo bravi noi ma c'è anche una disattenzione degli avversari e la stessa cosa vale quando si prende un gol quindi comunque aggiungiamo un punto alla classifica e noi oggi come ho detto anche ai vostri colleghi è come se avessimo 19 punti perché sul campo noi abbiamo fatto 19 punti purtroppo meno due siamo a 17 magari questi due persi avrebbero un po' ricompensato diciamo quella situazione però dobbiamo andare dobbiamo andare avanti perché lo spirito è quello giusto la squadra è viva e quindi dobbiamo pensare che non l'abbiamo vinta la partita ma non l'abbiamo neanche persa quindi abbiamo aggiunto un'altra prestazione positiva che si va ad aggiungere a quella con il con il Picerno di domenica scorsa e ora dobbiamo pensare a una partita imminente che è quella con il Casarano di domenica ed è stato fatale l'allenatore della Putiolana il pareggio di Brindisi allenatore che tra l'altro era squalificato e si è accomodato dunque in gradinata perché la SD Putiolana 1902 ha comunicato alla tifoseria agli organi di stampa l'esonero dell'allenatore Teore Grimaldi che era già in bilico in seguito ai risultati ottenuti dal suo arrivo in panchina la società ritiene che sia arrivato il momento di cambiare guida tecnica per dare una svolta alla stagione della 1902 affinché si raggiunga l'obiettivo prefissato nelle prossime ore sarà reso noto il nome dell'allenatore che guiderà la squadra mentre a mister Grimaldi vanno ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi e in bocca al lupo per il proseguo della carriera stessi auguri che la società proferisce al direttore sportivo Cavaliere che ha rassegnato le proprie dimissioni nei giorni scorsi così come per l'allenatore il nuovo ODS sarà comunicato nelle prossime ore infatti per la Putiolana Alfanuzzi in panchina c'era l'allenatore in seconda Biagio Auletta che abbiamo intervistato e sentiremo ovviamente nel corso delle nostre edizioni del telegiornale adesso spazio al basket perché è stato sorteggiato scusate il girone di Champions League i dettagli Nell'House of Basketball in Svizzera si è svolto il sorteggio della fase play-off 2020-2021 della FIBA Champions League L'Epicasa Brindisi è stata inserita nel girone completato da Pinar Carziaca Tofas Bursa e a Poel Unet Credit Olon Turna ha formato un girone di alto livello in cui sicuramente regnerà l'equilibrio ha commentato il direttore sportivo Simone Gioffre tutte e quattro le sfidanti hanno un background di quattro vittori e due sconfitte in regular season aggiunto segno della competitività diffusa nel gruppo credo che il Pinar Carziaca sia la squadra più attrezzata una finta seconda nel ranking con un ex brindisino nelle proprie fila come Amat Mbaie i dettagli faranno la differenza le due squadre turche potrebbero partire avvantaggiate non dovendo affrontare una lunga trasferta europea a differenza nostra il format della fase a playoff prevede la composizione di quattro gironi da quattro squadre ciascuno con incontri di andata e ritorno data di inizio il 2 marzo 2021 e termine previsto il 7 aprile 2021 le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno alla final et in programma dal 5 al 9 maggio 2021 in sede ancora da stabilire nei prossimi giorni verrà diramato il calendario ufficiale ed è tutto per questa edizione di 100 notizie e brindisi la parte tecnica è stata curata da Dario Spagnolo buon proseguimento di serata con i nostri programmi grazie a tutti